Assolutamente sì, però sempre nel cuore a Sampdoria Questo è il colpo di Takendoti e Ibrahimovi Quella è la testa di c***o, ma ci hanno fatto male qua Adesso mi ha fatto male qua A Sampdoria si salverà Sampdoria Sampdoria si salverà Sampdoria Sampdoria Casverà Sampdoria Sampdoria dopo la mattina sono stati presenti durante la mattina il suo progetto il suo progetto Vladislav Šubovic ora ci sono i servizi non, i servizi non, i servizi non, i servizi Giorgio, Giorgio, Giorgio. Il giusto della califà, giusto il freddo, il freddo, il freddo, il freddo, il freddo, il freddo. Grazie, il nostro gol! ... ... ... ... ... ... ... è un'altra parte del gioco che è veramente straordinaria se si vedi questo una volta in un gioco che finisce 0-0 è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco che finisce è un'altra parte del gioco che finisce